ciao ragazzi e bentornati su itineri di pesca quest'oggi una grande novità la nostra nuova applicazione wix quindi andate subito sul play store e scaricate l'applicazione gratuita di wix quella dove noi siamo con il nostro sito web itineri di pesca punto net una volta scaricata la applicazione la trovate sul vostro smartphone ci cliccate sopra e molto semplicemente andate da fare accesso con facebook con google con una vostra email potete entrare tranquillamente in maniera gratuita io nel mio caso ho scelto quella di itineri pesca italia perché non era ancora iscritta al canale già al nostro sito web lo avevamo ancora collegata una volta che siete entrati ragazzi nel magico mondo di itineri di pesca dovete tanto fare una cosa importante però cliccare sotto con unisciti con un codice invito il codice d'invito qual è ora lo vedete un attimo di pazienza che ci si arriva subito il codice d'invito comunque se ce lo volete ci potete chiedere anche tramite vari social comunque adesso lo vedrete in sovraimpressione questo vi permette di collegarvi e di iscrivervi per se non foste ancora iscritti al sito di itinerari di pesca naturalmente se uno è già iscritto a itinerari di pesca non ha bisogno del codice d'invito a regola comunque eccolo qua piccine 5 vi iscrivete cliccando sotto e la siete parte di itinerari di pesca cliccate su iscriviti c'è un altro piccolo step da fare è sì lo so lo so la vita la vita ok ci siamo adesso siete un membro di itinerari di pesca siete un bimbaccio qui vedete in alto tutta la strila streak ci cliccate sopra ed entrate dentro la nostra fantastica applicazione all'interno della nostra applicazione cosa trovate subito al volo così il nostro blog con tutte le notizie nuove particolari dove vedremo magari di mettere anche qualche tutorial ma vediamo un po qua ci abbiamo tutti gli aggiornamenti che una volta erano esclusivi per i patroni ma che adesso sono anche a vostra stretta disposizione potrete vedere tutte quelle novità nel mondo di dp che non verranno più e mai sono state pubblicate sui vari social ma saranno solo ad esclusiva pannaggio di coloro che faranno parte del nostro la nostra app gratuita quindi avrete tutte le novità segrete in arrivo rispetto agli altri che magari non sono con lui abbiamo la sezione supportaci dove potete fare quelle che sono le varie patronaggi da 5 da 20 da 50 con gli omaggi sconti esclusivi solo per voi per la vostra sottoscrizione ma soprattutto ragazzi è un modo per darci il vostro supporto ed aiutarci a crescere questo diciamo che sia non è proprio ecco e dateci una mano e questo è sezione gruppi questa è importantissima le sezioni gruppi trovate varie discussioni divise per tecnica di pesca potete unirvi tranquillamente cliccando su unisciti al gruppo ad una discussione specifica naturalmente è tutto gratuito ci saranno dei gruppi speciali dei gruppi segreti che saranno dedicati solamente ai patroni vedremo un attimino come svilupparli anche perché tali gruppi andranno un po sostituire anche quella che è telegram comunque unendoti al gruppo cliccando su unisciti al gruppo puoi partecipare a quella discussione naturalmente puoi iscriverti anche a tutti i gruppi nella discussione specifica entrando nella pagina come vedrai sarà una paginetta tipo un gruppo facebook molto semplice da utilizzare dal cellulare puoi scrivere il tuo post aggiungendo foto e video gif menzionare altri utenti oppure vedere i post degli altri e mettere like o comunque le faccine e quant'altro questa è la sezione gruppi quindi ragazzo benvenuto nel gruppo di itinerari di pesca nella nostra applicazione gratuita che ti permetterà di essere sempre collegato al nostro mondo ovunque tu sia anche in pesca se vedici anche un pulsantino chat quello ti permette di chattare con gli altri utenti interessante vero perché non sarai mai solo e sarai sempre accompagnato dal mondo di itinerari di pesca quindi cosa devo dirti forza corri vai scarica l'applicazione vieni con noi e fai parte della più grande comunità italiana di pesca sportiva amatoriale non garistica ma fatta di matti e come sempre ti ricordo il nostro motto catch and release ciao vi imbaccio